Il muro del suono Live at Circolo Oh, il posto è bello, però... Come mai vedete venire qua? Perché l'accoglienza è il top D'altra parte Se non ti va bene vai a parlare dei cinesi Va benissimo Due birre, quelle da 14 euro Ok, quindi dicevo l'accoglienza è il top